bella raga benvenuto un'altra volta nel mio canale di giuseppe formido a fare da te oggi vi voglio presentare uno dei bellissimi progetti che ho lavorato in questi giorni che ho mancato nel canale anzi chiedo con l'occasione vi chiedo scusa che ho mancato però ho avuto un poco di problemi qui tecnici qui in laboratori da me dovevo sistemare alcune cose anche nel frattempo anche se è mancata anche la rete internet l'ho dovuto anche rimediare anche per la rete internet ma ringraziato il signore è andato tutto bene oggi ovviamente vi presentiamo un nuovo progetto che si chiama due progetti in uno poi ci vediamo dopo per i saluti finali con ci spette formido allora andiamo a vedere questo bellissimo progetto come è stato realizzato nei minimi dettagli ovviamente due progetti in uno andiamolo a vedere eccolo il progetto due in uno ovviamente inizialmente volevo fare un progetto bellissimo per natale però poi ho visto che potevo unire un progetto con un atto l'ho messo l'ho assemblato e l'ho fatto la fusione così è uscito questo titolo due progetti in uno il primo progetto ovviamente è un semplice joystick ripreso ovviamente è un joystick bellissimo che ho recuperato e ci ho messo le luci lette di natalizia ovviamente come potete vedere ovviamente avete ora abbiamo una condoluce qua non riuscite a vedere le eccole qua lo vedete le luci cioè è praticamente tutto illuminato poi che cosa abbiamo? abbiamo di dietro abbiamo le batterie le batterie, il blocco batterie qui ho messo un tubo un semplice galleggiante di quelli che si usano normalmente dei galleggianti ho messo un portalampada qui c'è un semplice portoggetti da questo lato c'è un semplice portoggetti che potete usare con un semplice cosa poi ho recuperato una vecchia tavola con quattro staff scusate con quattro staff L poi cosa ho fatto? ho usato tutti i bulloni da 4 mm fino a realizzare questo che state per vedere ovviamente ci vediamo al prossimo video passo direttamente alla linea a Giuseppe Formicaffale da te per i saluti finali ciao ciao alla prossima ovviamente se vi piace questo bellissimo progetto del due progetti in uno ovviamente un mi piace è sempre il gradito ovviamente i miei siti e i miei social network ovviamente li trovate sempre ovviamente nella descrizione ovviamente se volete commentare trovate sempre la barra riservata per i commenti ovviamente la Giuseppe Formicaffale da te è tutto ci vediamo al prossimo video e al prossimo progetto ciao bella raga